Detiene il record di leggi approvate nell'ultimo quinquennio in Regione il consigliere d'Italia Viva Federico Talè che ieri ha presentato la candidatura per il suo secondo mandato. In attesa di tornare alle urne il 20 e 21 settembre, Talè ha colto l'occasione per incontrare la cittadinanza, la tensostruttura di Sassoni a Fano e per fare un bilancio del lavoro svolto. Tra le tante soddisfazioni personali rientrano le 28 leggi di cui è primo firmatario. Votate l'unanimità, di questo ne vado orgoglioso, la maggior parte, perché vuol dire che sono temi che non sono né di destra né di sinistra, come dico sempre io. Quando un provvedimento serve, serve. E quando una legge studiata da te e portata in consiglio viene votata sia dalla tua parte politica che dall'altra, è una grande soddisfazione. Tra queste la legge che ha portato alla convinzione con la Camera per Barica di Fano, quella che agevola l'accesso ai disabili sulle spiagge e sui parchi, così come la legge sulle malattie rare, grazie alla quale le famiglie possono ricevere un contributo mensile di 1000 euro. Poi un altro provvedimento ancora, che ha permesso di dotare di figure professionali centri che si occupano dei disturbi del comportamento alimentare, come l'anoressia e la bulimia. Malattie, ha precisato tale, che costituiscono la seconda causa di morte tra i giovani dopo gli incidenti stradali. La politica, le istituzioni molte volte servono alle persone più svantaggiate e noi che siamo, tra virgolette, più fortunati, dobbiamo sicuramente pensare di più a loro. Tale che se concentrato in particolare sui servizi sociali assicura un impegno futuro non solo per questo settore, ma anche per i comparti dell'agricoltura e del turismo. Come in qualsiasi altro lavoro ci vogliono le competenze, anche per far politica ci vogliono le competenze e penso che in tutti questi anni non è vero che bisogna votare chi non fa politica da tanto tempo, perché anche questo è un luogo comune, no? Ah, ci ha stancato, è troppo tempo che fa politica. No, non è così. Bisogna vedere che tipo di politica ha portato avanti fino adesso, perché uno che fa politica da tanti anni, ma che comunque è apprezzato dalle persone perché è vicino alle persone, penso che debba continuare a far politica. All'incontro al quale hanno partecipato il candidato governatore del centrosinistra Maurizio Mangialardi e il sindaco di Fano Seri doveva presenziare anche il ministro Teresa Belanova, ma dopo la sua visita a Fano, avvenuta in mattinata, il ministro è dovuto tornare a Roma per una riunione urgente in vista del Consiglio dei Ministri per il decreto agosto. Tale però ha annunciato l'arrivo in città di un altro personaggio di spicco. Mi ha chiamato Matteo Renzi dicendomi venerdì sera alle 21 sono da te, decidi dove, saremo qui al tendone della Sassonia con Matteo Renzi venerdì sera alle 21.